La sorgente sono i sogni. Il mezzo di trasporto nella vita reale sono le parole. Non è però una questione di contenuto, è soprattutto una questione di ritmo. Un ritmo che scivola tra desiderio e contraddizione. Sarebbe facile disturbare Freud o i suoi discepoli, in particolare Jung. Ma non serve questa mediazione. Le immagini fissate nell'album delle possibilità tra vita e morte parlano, raccontano violenze non rivelate, paure subite, analisi autogestite nel risalire verso la superficie dell'esistenza. Un continuo rapporto con la chiusura o apertura delle porte, e l'improvviso cambiamento di condizione con l'opportunità di uscire a rivedere le stelle di nuovi desideri, di nuove soste e di nuove ripartenze. Dalla prefazione di Ottavio Rossani. Con una nota di Giampiero Neri.